Giulia Quintavalle torna ad Arezzo dopo esserci stata pochi mesi fa, questa volta a Castiglione Fiorentino, per prendere un premio importante, quello del fair play. Cosa significa? Per me è una grandissima serata in mezzo a tutti questi sportivi, insomma, è bello ritornare dopo un po' diciamo di... sono stata un po' ferma. Per me è importante perché col mio sport, che insegna l'educazione, ma soprattutto il rispetto delle regole e il rispetto degli avversari, secondo me è il massimo, insomma, essere qua e dare, diciamo, un po' di pubblicità al mio sport. Ecco, parliamo un po' anche di judo, intanto per analizzare quello che è il momento del nostro sport e di questo sport. Sì, c'è sempre bisogno di queste manifestazioni come oggi, secondo me, per pubblicizzare gli sport come il mio, che sono poco conosciuti, per farvi vedere che servono, specialmente oggi, per i bambini, per educarli e per, come ho già detto, insegnarli cos'è l'umiltà e il rispetto. Fair play, quindi nel judo, che sembra uno sport e magari anche un pochino di contatto, sicuramente ce n'è tanto. Sì, ce n'è moltissimo e se venite tutti in palestra ve lo facciamo vedere. Ultima cosa, quell'oro olimpico, ti ho già fatto questa domanda ma te la rifaccio sempre volentieri. Cosa significa e cosa ti porta ancora dentro? Beh, sicuramente me lo porterò sempre con me, sia la medaglia che il ricordo. È stata un'emozione grandissima, la prima olimpiade, arrivare sul podio più alto, insomma, è stata veramente una grande soddisfazione. E poi, come ho già detto, è storia perché sono stata la prima donna e quindi tutti si ricorderanno per sempre di me.